Musica Dal 15 giugno tornerà. L'assessore del bilancio della regione Puglia Piemontese mantiene le promesse fatte qualche settimana fa a Vieste quando rassicurò gli operatori turistici sul ritorno del bus navetta che collega l'aeroporto internazionale di Bari al Gargano. Entro il 15 giugno la navetta ritornerà a fare la spola tra Bari Palesi e i principali centri turistici del Gargano. La notizia è stata accolta con gioia dal consorzio Gargano Mare di Vieste. Il presidente Mariella Nobiletti ringrazia la regione finalmente che può comunicare con i suoi colleghi imprenditori turistici che al costo di 20 euro offre il servizio che sarà quindi nuovamente riattivato. Manfredonia donati da Lions Club due defibrillatori a due scuole di Manfredonia. Il liceo classico di Manfredonia dell'8 giugno scorso dispone di un defibrillatore semiautomatico portatile donato da Lions Club. La cerimonia di consegna dell'apparecchio è avvenuta con una semplice cerimonia della presidenza dell'Istituto accolti dal presidente Leonardo Augello che ha molto apprezzato l'iniziativa e ringraziato i lounge che hanno dimostrato con diverse azioni l'attenzione per i giovani dell'Istituto. Il presidente del club ha evidenziato che la donazione è stata possibile grazie ad una raccolta fondi realizzata da alcuni mesi fa con il contributo dei soggi ed introiti delle iscrizioni. Mentre l'altro defibrillatore è stato destinato all'Istituto Tecnico Commerciale Tognolo di Manfredonia il 2 maggio scorso. La cerimonia di consegna dell'apparecchio è avvenuta nell'aula magna dell'Istituto in concomitanza con l'avvio del torneo di calcetto Memorial Giordano dedicato ad un docente molto apprezzato deceduto per un arresto cardiaco. In conclusione della cerimonia il presidente ha spiegato ai ragazzi che riaffollavano l'aula magna che il motto dell'Aus recita We Serve, ovvero noi serviamo, mettendoci al servizio della comunità, recependone i bisogni e promuovendo attività prevalentemente umanitarie in favore della stessa. Inoltre ha accolto l'occasione per ricordare che nel corso del mese di maggio sono state rivolte ai giovani delle scuole superiori di Manfredonia altre iniziative, tra cui il progetto Martina per divulgare la cultura della prevenzione dei timori ed il progetto I giovani e la sicurezza stradale. Presidente, quella che si prospettava fino a qualche giorno fa una delle migliori stagioni dal punto di vista agricolo rischia di diventare negativa per colpa delle avverse condizioni meteo. Com'è la situazione in provincia di Foggia dopo gli ultimi temporali? In provincia di Foggia, ma ahimè risulta in molte parti d'Italia, arriviamo in due pomeriggi a sommare 80 mm di pioggia con queste bombe d'acqua fenomenali di cui vi potrete sicuramente rendere conto ancora andando in giro e l'allagamento adesso comincia oltre alla grandine che provoca danni a tutte le colture, soprattutto grano duro, pomodoro da industria, uva da vino e tutte le altre appresso, ma l'allagamento fa anche temere per la raccolta del grano, queste bombe d'acqua improvvise a un grano che già, ripetiamo, ha un sottocosto che voi sapete tutti essere notevole, si aggiunge il cosiddetto cotto sull'acqua bollente come dicono certi detti contadini. Quindi una raccolta quella del grano compromessa e dalle avverse condizioni del meteo, ma soprattutto dal costo basso di vendita. Sì, entrambi le cose chiaramente acuiscono un momento veramente critico, ancora più drammatico. San Giovanni Rotondo ha ospitato il primo congresso regionale dedicato alla sindrome di Prede Ruilli, una malattia genetica rara le cui cause sono tuttora sconosciute e che colpisce un bambino ogni 15.000 nati e che causa l'obesità. Olga Cristantielli, presidente Associazione Francesco Pio. È fondamentale, assistenza, aiuti, malattia, medici, ospedali, sono cose che vanno di pari passo, a braccetto se vogliamo. Quindi più informazione e più impegno per tutti coloro che soffrono. Le associazioni ci sono, i medici e i professionisti non esitano a darci una mano e di fronte a tutto ciò ringraziamo pubblicamente Casa Sollievo della Sofferenza, il dottor Sacco e tutte le equip mediche che collaborano con la sindrome di Prede Ruilli. L'incontro si è tenuto presso Casa Sollievo e ha visto tra i relatori principali la partecipazione del professor Michele Sacco, primario del reparto di pediatria dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Noi sappiamo che la sindrome di Prede Ruilli va riconosciuta precocemente. È importante avere sul territorio, dare dei segnali, dei messaggi su quelli che possono essere segni di un riconoscimento precoce di malattia. E allora è importante parlare ai medici di famiglia, ai neonatologi, ai punti nascita, perché spesso è possibile riconoscere la malattia in epoca neonatale. Sport, calcio, il Foggia non ce la fa il Pisa in B, mentre il Foggia resta in Rega Pro. La Serie B per il Foggia resta un sogno nel cassetto. Tra i cadetti torna il Pisa, che da seguito al 4-2 all'andata, pareggiando al termine di una gara non bella sospesa per 14 minuti nel corso della ripresa, quando una bottiglietta lanciata dagli spalti colpiva Gattuso che si accasciava al suolo. Nel contempo alcuni tifosi del Foggia riuscivano ad entrare sul rettangolo di gioco per un tentativo di invasione di campo, prontamente estrogato dalle forze dell'ordine. Alla ripresa della partita, con i due allenatori Dezerbi e Gattuso allontanati dalle rispettive panchine, il Foggia generosamente andava all'attacco e trovava il gol con Iemmello, che realizzava sul calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo subito in aria da Floriano, da poco in campo. Ultimi cinque minuti con i rossoneri all'arembaggio a caccia del 2-0 e supplementari per il Foggia così poter continuare a sognare. Invece il gol lo trova il Pisa con Eusepi in contropiede 1-1 e tutto finito ed archiviato. Il Pisa vola in B, nonostante la delusione. A fine match tutto lo Zaccheria applaude i calciatori del Foggia, che entrano negli spogliatori con le lacrime agli occhi. Musica Musica